Nuova viabilità in via Portuense e Viale Marconi, indette le gare per realizzare due corsie preferenziali, riservate a bus e taxi e una bike lane su Viale Marconi. Le due importanti arterie della città cambieranno aspetto, donando un nuovo volto a gran parte del quadrante sud di Roma. I parcometri Pay & Go vendono biglietti ATAC. Con l'aggiornamento della funzione Pay & Go in mille parcometri di Roma, è ora possibile comprare i titoli di viaggio ATAC in qualsiasi momento, tutti i giorni della settimana. È così che raddoppiano, arrivando a 2200, i punti vendita dove poter ricaricare le tessere ATAC. Piano freddo, sono 1533 i posti messi a disposizione da Roma Capitale per accogliere le persone senza dimora. Potenziato il sistema di assistenza dopo il forte abbassamento delle temperature, garantita all'apertura di strutture presso Termini, Tiburtina, Casa di Riposo Roma 3 e presso le stazioni metro Piramide e Flaminio.